Mamma mia che sofferenza Cioè non è che è stata una partita sofferente Sì ci hanno avuto Boh mi sembra che hanno fatto un tiro e basta Tra l'altro Andanovic di lì poteva fare molto molto meglio Ma vabbè Comunque vinciamo Vinciamo per 3 a 1 Vittoria fondamentale a Frosinone Diciamo che oggi si Dove vince per forza Frosinone Asciando sta che Frosinone ha fatto due vittorie consecutive Era in forma per carità Ma tu oggi dovevi vincere E l'hai portata a casa Quindi questo diciamo che è positivo Al di là della prestazione che non abbiamo fatto Questo gioco bellissimo Scintillante Spettacolare Però importante era vincere E portata a casa il risultato Abbiamo vinto per 3 a 1 I gol di Perisic Che mannaggia te Cioè primo gol ha fatto Nainggolan Poi Perisic Che ha fatto schifo Ha siato sul rigore ma ha fatto pena E alla fine Matias Vessino Partiamo dal migliore in campo Per me E penso anche per tutti Rasha Nainggolan Per me è stato il migliore in campo Ha fatto una partita bellissima Ha sbagliato forse qualche passaggio sì Però ha fatto tanti recuperi Ha segnato Il secondo tempo Gli ultimi 10 minuti È stato vitale Perché ha fatto tanti recuperi Ha corso tantissimo È stato Diciamo Quando l'Inter ha fatto il gol Mi sembra È il gol Non mi vorrei sbagliare Che ha dato la palla di prima Vessino Adesso mi sembra che è il gol Mi sembra che sia Ha dato la palla di prima Vessino Vessino ha fatto una gran galoppata E anche Vessino ha giocato Molto molto bene Ha fatto una gran galoppata L'ha dato ai Cardi Che veramente Deleteri i Cardi Si ha fatto un bel assist Ma non si è mai visto Mai visto Perché caro È un giocatore che segna Ma se non segna Fa cagare Punto È un giocatore che segna E questo non glielo toglierà mai nessuno Ma se non segna È un giocatore che non si vede Mai Mai Però per il resto Diciamo che Non c'è stata partita oggi Abbiamo giocato solamente noi Frosinone Intanto si è visto Ma c'è anche il Frosinone In campo Ricordiamoci che c'è anche il Frosinone In campo Però Non c'è stata partita Abbiamo meritato questa vittoria Nel complesso Generale Probabilmente Noi ovvio Che ci aspettiamo di più Ci aspettiamo un gioco migliore Però adesso Raga Lasciamo sta il gioco Lasciamo sta quello che Vinciamo Vinciamo Se contro la Roma Soffriamo 90 minuti Però vinciamo Sì Potevo dire Però bisogna giocare meglio Ma l'importante è vincere Perché tu oggi hai vinto Se vinci anche contro la Roma Non ti dico che vai sicuramente in Champions Però Un mezzo piede in Champions League Già ce l'hai E poi alla sfida con la Juve Che comunque Te la giochi Vada come vada La Juve Penso che verrà San Siro Da campione d'Italia Non voglio Fargli venire a San Siro E fargli vincere lo scudetto a San Siro Questo no Magari Spero che lo vincano La giornata questa Mi sembra giocano contro il Torino La prossima giornata Mi sembra Non mi vorrei sbagliare Comunque Non devono venire A vincere lo scudetto a San Siro Detta male Ma vabbè Avete capito Quello che voglio dire Comunque L'importante era vincere Come vi ho detto Vittoria per 3 a 1 Abbiamo ritrovato Un Nainggolan Molto molto in forma Vecino Speriamo che continua a giocare così Con queste sue galoppate Ha sbagliato anche lui Ma oggi hanno sbagliato parecchi Forse solo Skriniar Non ha mai sbagliato Skriniar non sbaglia mai Sbaglia veramente pochissime partite Mi sembra Una sbagliata Da quando è all'Inter Da quando è all'Inter Una Mi sembra Per il resto È stata una buona partita A parte di tutti Tranne che di Perisic Che io Perisic Non so più come descriverlo Raga Perisic È Veramente Tu il prossimo anno Ricominci la stagione Il primo Il primo Il primo che vendi È Perisic Lasciando sta Riscatto Contro riscatto Forse riscattiamo Puglietà Prima Vendi Perisic Tu penso che devi finire In sta stagione Che già sa che hai vendi Perisic Penso che sei d'accordo Perisic non può restare all'Inter Non può restare all'Inter Punto Basta Niente Io Non so che altro dirvi Ci vediamo sabato Con il post partita Di Inter Roma Speriamo ovviamente Una vittoria Dei Nerazzurri Oggi Sembrava che giocavamo in casa Siamo sempre migliori Sugli spalti E niente Qui Da smalti è tutto Lasciate un mi piace Un commento Un'iscrizione al canale Se ancora non l'avete fatto Sempre Forza Inter Tra l'altro Apro una piccola parentesi La chiudo molto velocemente Per gli cardiani Quelli che difendono A prescindere i cardi Che l'hanno difesa A prescindere Nonostante ha fatto schifo Il metodo per cui È tornato a giocare all'Inter Skrignar È un uomo Che il procuratore Sembrava che lo volesse Mandare via No ma dai Ce ne andiamo Andiamo da un'altra parte Lui ha allontanato Il suo procuratore È andato a trattare Con la società E ha rinnovato I cardi invece Cosa ha fatto Va dietro La sua procuratrice Chi se ne frega dell'Inter Per tornare a giocare all'Inter Era dovuto prendere un avvocato Basta Io di cardi ho detto Che non parlavo più Però questa parentesi Era giusto Aprirla E chiuderla molto velocemente Per ricordare agli cardiani Che gli uomini veri Sono altri Non è i cardi Sempre forza Inter No forza i cardi Amala